quale pet stanno bevendo questa acqua piovane dalle altre parti ci devo mettere un poco di qualcosa dentro l'acqua perché le api non sanno nuotare tanto bene le vespe si mettono a pelo d'acqua sulla superficie perché sa la tensione superficiale che le impedisce di annegare le api questo non lo sanno fare duriglia punzole la pettine stronzole adesso chiamo qua